Musica E ti hai visto eh? Ti muovere! Hello ragazzi, saluto a tutti e bentornati con questa nuova parte su Subnautica La scorsa volta siamo riusciti ad espandere la nostra bombola d'ossigeno Abbiamo recuperato un sacco di materiali E come vedete adesso abbiamo una bombola di ossigeno tipo di livello 2 Non so come si chiami, comunque capienza elevata E ci permette appunto di respirare meglio sott'acqua Ora, ci siamo lasciati con un po' di cose da fare nella scorsa volta Vi avevo di fatto chiesto che cosa dovessi fare E mi avete detto guarda di fare un kit per... Cos'è che era? Lo scanner? Un kit per il Seaglide Devi scannerizzare i pezzi di Seaglide che hai trovato in giro Quelli che avevo trovato sott'acqua Non vorrei ma penso che sia questo Scanner spettroscopico utilizzato per acquisire progetti tecnologici e informazioni su organismi Viventi Potrebbe essere questo Semplicemente ci serve una batteria e del titanio La batteria forse possiamo farla Fungo acido e minerale di rame A voglia Allora se non sbaglio Ok eccolo qua C'è il nostro Send Help Dove ci ho messo schifezze vari Vabbè qua non c'è niente Allora prendiamo un fungo Così oggi bene o male vediamo di prendere appunto questo scanner Andiamo a vedere i pezzi di Seaglide che ci sono dall'altra parte E dovremmo riuscire Ok fammi una batteria Poi il titanio ce l'ho Così riusciamo a capire se poi ci danno altri progetti Perché poi mi avete detto col Seaglide puoi fare un sacco di cose Scanner poi si utilizzano per utilizzare i progetti Ok La tecnologia è trovata di registrare informazioni sulla biologia aliena Ok abbiamo lo scanner Allora è notte Ed è un casino se è notte no? Come al solito Però fatemi vedere Pronta la scansione Si mi spiega semplicemente cosa fa Naturalmente posso farlo solo con determinati oggetti Con chili di corallo Ecco se magari mi spiegassi come spaccarle Tipo posso anche fare sto pesce Vieni qua pesce Diciamo più che altro che mi servirebbe Mi servirebbe No No Mi servirebbe capire appunto il Seaglide Se posso utilizzarlo Cosa posso fare Erbaccia con torta Ma dammene un pezzo Vi ricordo che già che siamo qua Uovo di creatura Oh no Queste cose non li voglio E io mi sto addentrando forse un po' troppo Nelle profondità Senza capire dove effettivamente sono Avevamo trovato dei materiali buoni Come il ferro e il piombo Che mi servono tra l'altro Quindi Dobbiamo andarle a recuperare Mi servono quei materiali un po' particolari Per Per capire Per capire cosa posso fare Purtroppo si trovano nei casini Si trovano nelle profondità Si trovano dove ci sono quegli stalker maledetti Si trovano un po' ovunque Per fortuna ho fatto la bombola di ossigeno grossa Così respiriamo un bel po' E non rischiamo di perdere sempre tutta la roba Ma fatemi vedere se posso scannerizzare ste robe Scannerizza Scannerizza Ma porca di quella vacca Mi servono i robi di arenaria Dove sono? Il ferro e il piombo si trovano Nei robi di arenaria Non mi serve il sale Mi serve appunto l'arenaria Oh oh Oddio Framendo di siamo Oh ecco forse questo È uno di quei frammenti importanti Ok progetti Forse abbiamo sbloccato qualcosa di interessante Raga dove siamo? Eccolo Pezzo di arenaria Questo Questo qua È buono perché ci dà il piombo O il ferro a seconda poi del culo Anche che ci abbiamo E robe varie Quindi più ne troviamo meglio è Guarda 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 ho trovato Ho trovato la sorgente Ale Il fatto è dove cacchio siamo finiti Questo posto rosso non l'ho mai visto Fighissimo tra l'altro Il bello di questo gioco è che È molto esplorativo Come potrebbe essere Minecraft Uno potrebbe dire che è tipo Minecraft Però in acqua no? Perché potete costruire Potete craftare robe Però È completamente diverso Cioè è proprio È bello È bello Mi piace Oh no ci sono gli stalker Si è preso il rottame Bravo bravo Prendi il rottame Io vado un attimo qua No no Qui 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 Prendo questi Guarda dove cacchio siamo Cos'è? Cento metri superati O cacchio Però qui questo 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 è qualcosa Dove tornare in superficie Perché se no muoio mi sa Corri 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 No 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 Che perdo tutto No Non ci credo Per una volta che avevo fatto qualcosa Di buono Perché io non mi faccio mai cacchi miei Vado sempre più a esplorare Dalle altre parti Cosa recupera? Non c'ho più niente Tutta la roba che avevo presa Non ce l'ho più Sono contento Quando succedono queste cose Sono molto contento Quando succedono queste cose Guarda guarda Ci avevamo tutto qua Ci avevamo Tutta portata era Frammenti del sea glide Tutto Tutto era qua Continuo a scannerizzare un po' di roba Perché Metti caso qualcosa trovo Così magari riusciamo anche a capire Cosa possiamo fare E cosa no dopo Se ci fosse anche un modo Per magari aumentare La portata delle pinne Non lo so Qualcosa Da fare Per andare più veloci Perché purtroppo Risaliamo molto lentamente Quindi Dobbiamo trovare un metodo Per risalire Più velocemente A culo pendente Aspetta Aspetta calmo Questa roba posso Mi sa che non posso prenderla Vero Mi sa che mi fa i danni Mi confermate che Una volta che Magari siete morti L'oggetto non cade per terra Ma sparisce completamente Cioè del tipo Io muoio In un punto A L'oggetto Cala a fondo E arriva praticamente Fino al punto più basso Lì dove Dove atterra Oppure sparisce completamente Quindi non lo trovi più Perché davvero Mi dispiace un sacco Per tutta la roba Che ho perso Cioè avevo un sacco di roba Avevo trovato un sacco Di cose di arenaria Che è la roba Che mi serve Perché c'è il ferro E il piombo E adesso non c'ho più Un cacchio Cioè Sono rari Tra l'altro Ti dice proprio Più va in basso Più l'ossigeno È difficile Guardate Guardate 100 metri superati Questo vuol dire Che l'ossigeno Cala più rapidamente In teoria no Però io sono sicuro Qua in basso Si trova il mondo Cioè più va in giù Più trovi Allora mi sono raccolto Un po' di robe Vediamo di tornare alla base E capire che cosa Abbiamo sbloccato Oppala Guarda già quanta roba Anche possiamo fare Cibo cotto Cibo trattato Io dovrei fare dell'acqua Però Sea glide Converte la rotazione Dell'elica Sott'acqua in propulsione Buono Lubrificante La batteria E il filo di rame Quindi aspetta Armadietto No dov'è Eccolo qua Filo di rame Ok il filo di rame Possiamo farlo Poi cos'altro possiamo fare Aspetta Cos'è che ci serve Lubrificante Che penso che si prenda Dalle cose di Creepvine E una batteria E purtroppo mi servono Altri minerali di rame Aspetta Lubrificante possiamo farlo Fatemi vedere un attimo Ho sbagliato Fatemi vedere un attimo Forse c'ho rame Da qualche parte Grande Grande che mi tengo Sempre la roba Bra Ci facciamo una batteria E ci facciamo il Sea Glide Ok Con questo non so bene Cosa possiamo fare Non ho capito Però Propulsione Aumenterà la portata Delle tue esplorazioni Ricordati di riportare Quanto è provvisto Per lunghi viaggi E di stare entro 5 km Porca vacca Dalla più vicina Capsule di salvataggio O habitat Ah è vero Perché possiamo farle Cioè noi possiamo crearne Di diverse Sunbeam Che non so chi sia Vabbè Quella dell'altra volta Abbiamo appena captato Un enorme campo di retriti Non so proprio quanto terribile Quanti di voi Non lo sapevo Oh han capito che Forse siamo Atterrati male Ecco Siamo in viaggio Versa la vostra posizione Mi porteremo a casa Sunbeam Chiudo Eh ma magari Cosa posso dire L'unica volta che ho fatto Atterrare un affare così grande Se una roccia così piccola È stata una simulazione E l'ho fatto saltare in aria Siamo in buone mani Ragazzi Tranquilli Mi piacerebbe fare anche Questo costruttore di habitat Però mi serve un microprocessore Una cavetteria E una batteria Mi sembra tutta roba Elettronica Ma palla Microprocessore Vai Dovremmo riuscire a fare Il Oddio Sono sbloccato Opa la la Ok questa Cos'è che c'era Batteria avanzata No no Cavetteria avanzata Che mi servono Due ori Ma non ce li abbiamo Quindi per adesso Sta lì Costruttori di habitat Non so poi cosa possa fare Con questa roba Il costruttore progettato Per costruttore di habitat È in grado di resistere Anche alle condizioni ambientali Più estreme Poi c'è un messaggio alla radio Ragazzi ne chiediamo Non pensavo che potesse succedere La nostra capsule è quasi schiacciata Dal vano del Seamot Durante la discesa Ora siamo sospesi sul bordo Sul bordo di un sistema di caverne Venite a prenderci adesso Moduli esterni Parti interi Ah aspetta Pannelli solari Ok ok aspetta aspetta Forse ci possiamo tipo espandere E per farlo mi serve Oddio litio Addirittura Mi serve un sacco di titanio Sto guardando Quindi È meglio se raccogliamo anche qualche pezzo di rottami Tanto Allora capsula 17 100 metri Incagliata vicino al sistema di caverne E sotto attacco Tocca andare a vedere Però sotto attacco Mi dispiace Perché noi abbiamo solo un coltellino Se mi dessero una spada Un arpione Da tirare Magari sarebbe anche più bello Cioè più bello Più utile Perché contro con gli stalker Un coltellino non gli fa niente Cioè Non si spostano minimamente Quei rovi Tra l'altro È il posto Oh oh Forse quello Ok Ci siamo raga Fermi Perché ci aveva detto che era sotto attacco Quindi prendiamo un attimo un po' Il respiro Cosa c'è qua Ah pda abbandonato Dammi qua Frammento del simoth Scannerizza Che cacchio è qua Ma dove è la gente Non c'è più nessuno Fammi trovare in superficie Voglio vedere Cos'è quel robo Uno squalo balena Aspetta coltello in mano Perché Ma sono dei pianeti Cioè sono tipo dei micropianeti Ma sono vivi vero Io raga scannerizzo tutto Non so minimamente Con chi gli è involuta Ma che cacchio è Volevo vedere se c'era qualcosa di interessante Tipo Le scansioni locali Mostrano l'ingresso di una caverna Nelle vicinanze Proffondità 90 metri No 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 Aspetta lascia stare Quindi sarebbe anche una cosa fattibile Però 90 metri Non Non danneggiamo l'ossigeno Sì ma io dovrei tornare in su Cioè Io ci muoio Io lo so già Ci muoio Fammi vedere Ecco fammi vedere il sea glide Sto punto Scusa Sì ci muoviamo decisamente meglio Altro che Oh cacchio Nope Torniamo su E Direi che Ce ne torniamo a casa Perché qua Finisce male Quello là è un posto Troppo profondo Non abbiamo ancora L'equipaggiamento adatto Fatemi fare giusto un attimo Un armadietto Perché Ho un po' troppi materiali E vorrei Vorrei gestirmeli meglio Ecco C'ho ancora la bomboletta vecchia Io Che non so come usarla Ancora è un po' È un po' Tutto confuso Cioè Mi serve Mi serve più roba Mi serve più Più materiale Per esplorare bene Perché sennò Non capiamo molto Va bene Direi che prima di chiudere Possiamo fare un attimo Un ultimo giro Esplorativo Giusto per vedere Se riusciamo a rimediare A parte che mi servono Gli aerosacchi Quei cacchi di pesce Oh oh No qua no Mi servono gli aerosacchi Per Per far l'acqua Perché devo bere Non c'è un modo tipo Per bere fisso Cioè nel senso Un dispositivo Che mi trasferisca l'acqua Che me la purifichi Automaticamente Boh Oh bravi Datemi l'arenaria Questa io voglio Alla fine quelle robe Ma aspetta Ma ricrescono vero? Cioè l'arenaria O comunque Tutta quella roba lì Ricresce Se Se state fermi Per un po' no? Non penso siano oggetti limitati Cioè sarebbe assurdo Allora Aria e sacchi Venite qua Che se devo bere Purtroppo C'ho sete Magari con l'acquario Posso tipo Come posso dire Creare Delle 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 famiglie Così Non devo Per forza Andarle a cercare Dall'altra parte Ma Basta che Vado lì nell'acquario Prendo e Ce l'ho lì Ok Allora Ci siamo messi un po' a posto Abbiamo esplorato ancora un pezzo Ci abbiamo Dei rottami qua Va bene Io ragazzi Penso che possiamo Terminare qua Questo episodio Abbiamo esplorato Abbiamo capito Che c'è Qualcosa da fare Ogni tanto Tipo esplorazioni varie Andare a salvare Altre cose Scoprire altre cose La prossima volta Vediamo anche Come costruire O cosa costruire Perché più che altro Penso sia Tipo un'espansione Per muoversi meglio Anche per distribuire Meglio le cose Perché Tipo con la scala in mezzo qua Mi dà un po' fastidio Il tutto Quindi se riesco a spostarmi Dall'altra parte È meglio E nel caso Terminò qua Noi ci vediamo Al prossimo episodio Sempre Subnautica Qui dalla Nulf è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti